Musica Questa sera abbiamo preparato una torta Nini che è un prodotto che è stato realizzato appunto da una nostra pasticcera perciò quest'anno l'hanno aperto molto alle donne in pasticceria abbiamo un fondo, una crumble al cacao con poi una mousse al cioccolato al latte un d'acquase al cocco e una mousse al cioccolato all'esterno e all'interno abbiamo una composta di frutta tropicale Musica 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 Musica